Signori, l'altra settimana, l'altra settimana non si faceva dai tempi di Renzo Arboro, io mi vergogno a dire queste cose, però mi hanno detto Deo, è bello ricordarle, abbiamo toccato il 38%, all'una e mezza di notte, aspetta, fermi, non voglio l'applauso, ma c'è gente che all'una e mezza sta incollata lì a vedere libero, perché? Saranno le tette di Eva? Allora io ho pensato una cosa, gli ho detto alla Raico, Giovanni dateci qualche soldino di più, hanno detto, non se ne parla, non se ne parla, se volete vi mandiamo una modella, chiedeteci chi volete, abbiamo detto, alla mandateci, Malgioglio, e gli abbiamo dato, ci hanno dato 150 euro per Malgioglio, guarda che cosa c'è, tu hai la Taylor, guarda, stai a vedere, signori, una modella straniera, costata un pacco di soldi alla Rai, non l'abbiamo pagata noi, però devo dire finalmente grazie alla Rai, lei si chiama Rebecca, lavora negli Stati Uniti, in arte Rececca, che è un nome molto strano, fa quasi ridere, signori, Rececca, forza! Di qua, di qua! Fermo, fermo! Cosa fai? Vieni Rececca, ti presento un personaggio che voleva baciare un uomo, io... Andati come pallamando! Andati! Che siamo, scusami, vieni qua, signori, questo è un'inc... è preoccupato, guarda, ma è sudato Chi è? No, non lo sto preoccupato Volevi baciare qualcuno? No, io voglio baciare te Sì, comincia da lui e poi... No, no, no... Rececca! No, no... Ma è ricostruito a computer Bello, il signore De Gnallini! Vieni qua, Rececca, vieni, vieni Ecco, metti da dentro per favore No, Rececca, buono Cristiano, che è pericolosa Rececca Mi vergogno come una bestia Ho 39 anni, brutto Agosto ne faccio 40, guarda, sto peggio di te Però ti volevo dire, io sono qua a teo per dirti Che tu dici sempre che per entrare in televisione bisogna darla Io sono qua, non l'ho mai data No, perché oggi la darai a lui Oggi Cristiano dimostrerà quanto è uomo, eh? Dai, un bacio, un bacio carino, dai Un bacino Con lingue? No, 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 no Io non posso, non posso No Vai, bacialo! Non ho inteso No, prendilo No, prendo Dammi il bacino Dammi il bacino Se poi è l'altro Un bacino Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ah Ah No No Fermi No Bene 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 Piano Bene Siamo pronti per andare alla fattoria Ciao Andiamo, andiamo Che tino Vieni qua a recensione Ragazzi è un mito, è un mito Vieni qua Non Non Bene Vieni qua